Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona, confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per manutenzione e viadotto tufo dal 4 dicembre al 10 dicembre. Grazie a tutti.